Nel segno della continuità ma con uno sguardo rivolto ancora di più verso il futuro. E' con questo spirito che è avvenuta negli scorsi giorni in elezione a presidente della Camera di Commercio di Bari di Lucia Di Biceglie. Prima donna ai vertici dell'ente camerale barese. Ruvese, dirigente di Confcommercio BariBat, consigliera della Camera di Commercio di Bari dal 2016 al 2019 e presidente del Comitato per l'imprenditoria femminile nella Camera di Commercio di Bari dal 2012 al 2015. Lucia Di Biceglie è attualmente presidente anche di terziario donna di Confcommercio BariBat oltre che vicepresidente di terziario donna di Confcommercio nazionale e direttore di Confservizi Bari. E' con tanto senso di responsabilità e con tanto senso di servizio rispetto alla comunità e in questo caso quella economica della provincia di Bari e BAT. Certo il mio ruolo si avvicenda a quello di Sandro Ambrosi che è stato il presidente designato e eletto l'anno scorso in buona sostanza e che però è venuto a mancare e quindi l'associazione ha deciso di designare il mio nome e quindi l'altro giorno l'elezione. Ecco però nel solco del presidente, in memoria del presidente, sicuramente lo stato d'animo è quello purtroppo del rimpianto rispetto ad una mancanza che è molto presente. Ecco diciamo sembra uno simero però è la verità. La prematura scomparsa di Alessandro Ambrosi ha inevitabilmente lasciato un segno nell'economia del territorio pugliese ma per Lucia di Biceglie si riparte dalla continuità con uno sguardo attento ad innovazione, giovani e formazione. Sicuramente nel solco della continuità perché ci sono tanti progetti e tante idee ormai già poste in essere che avevano cominciato durante il percorso di questo mandato camerale ma sicuramente con uno slancio ancora più rivolto verso le imprese e iniziative che possano grazie alle imprese poi ricadere anche sul nostro territorio. Una delle prime uscite pubbliche di Lucia di Biceglie è stata ad Andrea per la presentazione di un nuovo step del distretto urbano del commercio uno strumento che serve a far sistema e per cui bisognerà continuare a lavorare anche in futuro. Sicuramente i distretti urbani del commercio sono uno strumento che grazie alla collaborazione tra le amministrazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio possono creare delle opportunità. Come dicevo prima perché è una cosa in cui credo tanto non soltanto rispetto all'azione che ricade diciamo sulle attività ma hanno la possibilità di creare un sistema e in questa parola io credo molto che metta insieme le associazioni, le imprese e anche gli enti territoriali e quindi i comuni, le amministrazioni comunali che in questo percorso, quello dei Duc, hanno avuto un'azione determinante.